Sale a 702 il numero complessivo di cittadini positivi ad Agropoli. L'ente comunale ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 43 nuovi casi di positività al Covid-19. Di questi 27 riscontrati tramite tampone molecolare e 16 con test antigenico. Al contempo si segnalano anche 19 guarigioni. I positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono registrati come asintomatici. Non migliore la situazione nella città dei Templi, a Capaccio Pestum con 46 nuovi positivi che portano il numero attuale di cittadini contagiati dal Covid-19 a 715, con 874 persone in quarantena fiduciaria e 17 persone guarite dal virus. Nella città di Castellabate infine sale a 252 il report dei positivi, con nuovi 18 cittadini contagiati e 5 persone guarite.